Gentili telespettatori, buona giornata. Il tagliando antifrode sulla scheda elettorale sta rallentando il voto. Il tagliando da staccare. Tra le novità del voto di oggi c'è anche il tagliando antifrode sulle schede elettorali che sta lievemente rallentando le operazioni di voto. All'uscita della cabina infatti la scheda non va subito inserita nell'urna ma consegnata al presidente di seggio che deve prima staccare il tagliando. Si tratta di un codice che identifica la scheda. Il presidente del seggio ne prende nota prima di consegnarla all'elettore e poi prima che il foglio finisca nell'urna guarda che coincida. Per evitare il voto di scambio che spesso si nutre con schede esterne già compilate. Il tagliando dopo il controllo è staccato per rispettare la segretezza del voto. Una serie di passaggi che richiede un po' di tempo in più. Sempre per rispettare la segretezza del voto e tutelarne la libertà è vietato portare lo smartphone nella cabina così da non cedere alla tentazione di scattare una foto. Chi viene sorpreso con il cellulare c'è l'arresto da 3 a 6 mesi e una multa molto forte. Per chi volesse nascondersi il cellulare che poi suona mentre sta votando perché chissà perché allora lì sono dei bei seri problemi. Intanto vediamo come si vota per evitare di fare errori oggi alle elezioni per non rischiare l'annullamento della scheda. Si può sbagliare, il presidente di seggio vi dà un'altra scheda e ad esempio bisogna mettere una croce sopra, una sola croce sulla scheda e questo è il primo consiglio per votare senza rischiare che la scelta sia annullata. Quindi per essere sicuri di non fare errori bisogna solo mettere una croce sul simbolo e così la scheda va benissimo. Se si fa il voto solo sul nome allora viene esteso anche alla lista. È vietato il voto disgiunto mettere un simbolo da una parte e un nome da un'altra parte. Questo è il primo consiglio per rischiare di non essere, di non avere la scheda annullata. Intanto si vota dalle 7 alle 23, sono quasi 51 milioni gli italiani chiamati alle urne per scegliere il nuovo Parlamento e in Sicilia si vota anche per le regionali. Scheda rosa per la Camera, gialla per il Senato. Quest'anno per la prima volta i diciottenni potranno votare oltre che per la Camera anche per il Senato. La mascherina non è obbligatoria ma il Ministro comunque la raccomanda. Sulla scheda trovate i simboli dei partiti e accanto le liste dei candidati di ciascuna formazione per la parte proporzionale. A ciascun partito o coalizione, liste raggruppate in un'alleanza, è collegato un candidato per la parte uninominale. Circa un terzo dei parlamentari è scelto appunto nei collegi uninominali. Una sfida diretta passa solo un candidato, quello che tiene più voti, anche uno più degli altri. Due terzi sono eletti invece con sistema proporzionale attraverso dei listini bloccati. Un voto solo, questa è la distinzione. Quando si è nella cabina, l'elettore ha a disposizione un solo voto, uno per la Camera e uno per il Senato. Per questo, per non sbagliare e non rischiare che il voto sia annullato, basta tracciare una croce per ogni scheda, tenendo conto che le modalità di voto sono sostanzialmente due. Tracciando la X sul simbolo, il voto va alla lista e al candidato all'uninominale collegato. Si può tracciare un secondo segno anche sul nome dell'uninominale, sì, ma non fa differenza. Tracciando la X sul candidato dell'uninominale, il voto va anche alla lista o alle liste, se in coalizione. Sarà suddiviso tra queste in proporzione ai voti ottenuti nel collegio. Certo è possibile anche barrare sia un simbolo che il nome del candidato all'uninominale collegato, ma il secondo segno è superfluo. Quindi perché rischiare di sbagliare e farsi annullare la scheda? Intanto l'importante è ricordare che non è ammesso il voto disgiunto. Non è possibile cioè scegliere una lista e insieme un candidato all'uninominale non collegato. Il voto verrebbe annullato. I listini sono bloccati, non si possono esprimere preferenze. Non fate altri segni sulla scheda perché verrebbe annullata. Un'osservazione è che quando votate non mettete le schede una sopra l'altra per evitare che il segno tracciato su una scheda sia visibile anche su quella sottostante, perché anche qui la scheda verrebbe annullata. Non entrano in Parlamento le liste che a livello nazionale non ottengano almeno il 3% dei voti, ma se ottengono almeno l'1% i voti vanno alla coalizione e non dispersi. Se non sono in una coalizione non vanno da nessuna parte. Lo spoglio delle elezioni inizierà alle 23, quando si conoscerà l'affluenza. Si parte dal Senato a seguire la Camera. Poi alle 14 di domani si comincerà lo spoglio per le regionali in Sicilia. Poi abbiamo visto il tagliando all'inizio del video, il tagliando antifrote. Se comunque si sbaglia e volete porvi rimedio, non fate correzioni a matite di alcun tipo. Qualsiasi segno che non sia il voto porta all'annullamento della scheda. È possibile chiederne una nuova al Presidente del seggio che cestinerà la vecchia tra le deteriorate, mentre voi potete rientrare nella cabina. Si può andare al seggio con il cane. Nella cabina si dovrebbe stare da soli, si fa eccezione solo in casi di voto assistito, mentre i genitori anziani e figli minorenni non sono ammessi. I cani un divieto espresso non c'è. In teoria nulla vieta di entrare al seggio col quattro zampe al guinzaglio, ma l'ultima parola aspetta il Presidente e lui che eventualmente potrebbe opporsi al canoide, rifiutando l'ingresso del canoide assieme al suo padrone nell'urna elettorale. Salutiamo tutti i canoidi d'Italia. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Ricordatevi che c'è anche Tele Italia seconda rete dove trovate video di politica, di notizie e di fai da te e poi c'è anche il canale di mia moglie in cucina con Carla. Grazie a tutti e arrivederci. A presto. Grazie.